Allora vi possiamo dire chiaramente... Vi chiedo un minuto di silenzio per questa giovane vita che abbiamo perso in questo territorio, in questa comunità, in un luogo di lavoro. E' inaccettabile, inaccettabile. Oggi è un momento di amarezza. E' inaccettabile che dei lavoratori vadano al lavoro la mattina, escano di casa e non tornino la sera perché muoiono nei luoghi di lavoro. I lavoratori stranieri stanno pagando un tributo di sangue in percentuale ancora maggiore. Nonostante questo ci indigniamo oggi come una morte avvenuta dietro l'angolo del sindacato, dove un'azienda è sindacalizzata. Noi chiediamo maggiore formazione, chiediamo la possibilità di poter formare i lavoratori durante tutta la sua vita, non solo, ma anche le aziende, perché spesso anche le aziende devono capire quello che è il rischio che c'è dentro la loro struttura. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.